Ci ha dato grande dolore, venerdì scorso, la notizia della strage avvenuta in una moschea nel nord del Sinai, in Egitto. Continuo a pregare per le numerose vittime, per i feriti e per tutta quella comunità così duramente colpita. Dio ci liberi da queste tragedie e sostenga gli sforzi di tutti coloro che operano per la pace, la concordia e la convivenza. Quella gente in quel momento pregava, anche noi in silenzio preghiamo per loro. Il pensiero per l'Egitto colpito dal terrorismo è il viaggio che sta per iniziare in Myanmar e Bangladesh. Nel cuore del Papa, al termine dell'Angelus, c'è stato anche il ricordo della tragedia dell'Olomodor, la morte per fame provocata da Stalin con milioni di vittime, soprattutto in Ucraina. Prima della preghiera mariana, Francesco ha ricordato la solennità di Cristo Re dell'Universo, il metro di giudizio che Dio userà, l'amore concreto per il prossimo in difficoltà. Gesù, ha evidenziato il Papa, viene a noi ogni giorno in tanti modi e ci chiede di accoglierlo nei fratelli e nelle sorelle che soffrono la fame, la malattia, l'oppressione e l'ingiustizia. Accoglierlo oggi vuol dire, a concluso, essere poi accolti da Lui nell'eternità del Suo regno di luce e pace. Grazie.